ragazzi prima di iniziare il video volevo chiarire una cosa vedrete che dura 20 minuti e non 25 questo non perché voglio fare lo stronzo e quindi arriverà qualcuno che dice steppi avevi promesso l'episodio di 25 minuti fai schifo qua e là su e giù allora come vedrete nel video ci sono state varie circostanze nelle quali ho dovuto tagliare dei pezzi importanti di registrazione io avevo registrato circa 42 minuti di video tant'è che lo spazio su disco mi è terminato quando poi sono andato ad editare però mi sono reso conto che veniva di 20 minuti e non di 25 spero che comunque questo possa non essere un problema spero che possiate apprezzare comunque il video ce ne saranno delle belle e da sclerare delle belle ve lo anticipo e niente buona visione bene ragazzi questo è app e bentornati in questo 27esimo episodio di minecraft lo scorso episodio era da 25 minuti e ha raggiunto tipo 8000 mi piace quindi boh traguardo incredibile anche se questo ne raggiunge tanti siete dei grandi porco 2 allora siamo sempre nel nether perchè dovevamo trovare le fortezze con i blades e ho letto molti dei vostri momenti tipo dove mi avete detto steppi non ti sei portato le palle di neve ed è vero me ne sono dimenticato proprio del tutto quelle mi avrebbero aiutato a distruggere però il nostro problema principale è il fatto che non li ritroviamo cioè credo che comunque con l'armatura di diamante si riescano a distruggere abbastanza tranquillamente senza troppi problemi il problema è trovarli quindi adesso mi son detto prendo un po' di questa glow sun altrimenti non raccatto un cavolo di niente quindi raccattiamone un pochina in qua e là e dobbiamo cercare di sfociare in qualche punto positivo e qui siamo perduti nel niente io mi sono segnato le coordinate in chat come avete detto voi x40 y81 che l'altro meno 100 qualcosa qua sembrerebbe essere tipo boh tutto aperto però c'è un po' un incognito a muoversi nel nether non sai mai non sai mai che poi è tutto uguale tutti i pezzi uguali spacchiamo queste glow sun andiamo un altro pochino così le utilizziamo tipo per fare delle boh dei lampioni la nostra mappa per abbellirla prendiamo anche il quarzo che ci potrebbe servire in futuro 19 ne ho molto poco in realtà cioè ci servirebbe molto di più vabbè pazienza allora vediamo dove si può sfociare comunque ragazzi ieri è uscita la adventure map quella della prigione però è finita in un solo episodio io non pensavo di riuscire a finirla così velocemente e molti mi hanno detto stepify ovviamente adventure più lunghe quello che speravo fosse almeno una mappa di 3 4 episodi ora io non ho non ho cercato video su youtube prima di farla cioè l'ho fatta semplicemente così scaricata e fatta per questo è durata così poco perché era una mappa che in sé per sé durava poco ma non lo sapevo quindi ho visto che molti mi hanno consigliato di fare una certa diversity ora noi faremo un numero assurdo mamma mia incredibile riscato di morire però va bene così una certa diversity ma avete detto è molto più lunga e però non ho capito in cosa consiste cioè questo diversity in cosa consiste cioè scrivetemelo nei commenti se volete io faccia questa diversity che non ho idea di cosa parli perché altrimenti non ho idea di come muovermi anche con la mappa stessa sotto di noi abbiamo solamente lava siamo fottuti cioè io dove vado adesso dove cazzo vado ah se mi lancio da qua su muoio al 100% proviamo a farci una scala che scende per limitare il danno da caduta e secondo me non torneremo mai a casa cioè secondo me alla fine ci tocca farci una chest suicidarci e poi tornare un giorno in nether a riprendere tutto eccoci eccoci e vai e vai il vuoto che bello che bello che c'è il vuoto sotto i piedi oh mio dio secondo voi fermi c'è tipo una collinetta posso arrivare alla collinetta ci arrivo ci arrivo è qui sotto tipo eccolo lì da lì ci possiamo lanciare cioè no scendiamo piano piano senza ucciderci forse no step non lo farei mai più non è una collinetta è un vedere ok questa è l'altezza massima dal quale possiamo lanciarci facciamo facciamolo dai non dovrebbe succedere due cuori abbiamo rischiato perché se era poco di più morivamo però inizio a intravedere degli scenari un pochino più interessanti tipo boh che si inoltrano all'interno dove magari è possibile trovare quel cazzo di blaze road maledetti cioè se non li trovo è inutile questa mission secondo me qua c'è qualcosa secondo me c'è no forse no cazzo di put non troveremo mai un cazzo da fidare di me allora sotto abbiamo la lava preferirei evitare di cadereci dentro quindi passiamo all'esterno guardate quanta lava c'è nel nether e noi avevamo paura di non trovare la lava guarda qua è pieno ok qui se avessi il coraggio potrei fare il parkurista però meglio di no meglio non non mettere la prova alle mie doti di parkurismo dove si rischia di perdere 26 livelli che tra poco siamo a 30 possiamo inciantare un altro libro e tutto questo ben di dio cioè l'armatura di diamante se la perdiamo io mi incazzo come una scimmia del portorio e voi non potete capire non potete capire quanto si incazzano le scimmie del portorio qui c'è la ghiaia sbacchiamo la ghiaia dai quanta ghiaia c'è ok molto bene mi sembra di essere tipo nello stesso punto di prima perché non ci sono punti di riferimento qua quindi non saprei come cazzo fare oh qua dentro qua dentro c'è qualcosa secondo me c'è una grotta che sfocia in due funghi e nel niente più totale che palle che palle il nether ragazzi eh forse intravedo qualcosa laggiù in lontananza forse chi lo sa ma tipo mob non ce ne sono? pigman, ghast, non c'è niente cos'è quello? uh fermi forse siamo arrivati a qualcosa di interessante tutti radunati laggiù tutti là guardate c'è il raduno dei pigman allora secondo me stiamo andando nella direzione giusta a quanto è quotato il fatto che non torneremo mai più a casa sani e salvi un ghast, un altro raduno di pigman ora questo mi spara madonna vieni, vieni pezzo di merda vieni strozzo vieni donna se ti piglio donna se ti piglio ma te lo stai abbassato eh avvicinati, vieni vieni ti ammazzo, vieni spara fa un pazzo di merda muori oh l'ho ucciso, lacrima di ghast ghast bastard ragazzi guardate cosa ho trovato ci siamo ci siamo arrivati finalmente eh adesso però non dobbiamo fare cazzate allora prima cosa vedere fino a che livello possiamo scendere e segnarsi le coordinate subito subito quindi le scrivo in chat allora è in culo x-633 y y no la y è uguale 82 z-690 voglia è lontanissimo però l'abbiamo trovato l'abbiamo trovato oh step questi rischi non li devi correre la fortezza del nether è raggiunta si cazzo ora si va a prendere qualcosa eh ora mi sto avvicinando piano piano eh datemi tempo mi butto qui ploff molto bene dobbiamo trovare il modo di caderci sopra senza cadere nella lava tipo così oh 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 cazzo oh minchia di buddha troia cos'è cos'è quell'uomo è avvizzito che cazzo significa è avvizzito cioè ragazzi sono molto da uno scheletro così a caso ma porca puttana Eva ora dobbiamo tornare là minchia mi servono picconi devo prendere allora picconi e cibo e basta e poi correre velocemente cioè non posso lasciare tutto là picconi uno due tre ne ho si spenge poi la fotocamera e il cibo il cibo il cibo di qua dove sono le patate 60 basteranno 32 ma porcaccia di quella miseria ladra cane cioè uno scheletro del nether mi ha ucciso in un colpo non ho parole non ho parole sinceramente e ora chi sa dove cazzo devo andare in meno x era vero meno 633 y82 z690 allora ragazzi ci dobbiamo quasi essere se non erro perché qua qua c'è la lacrima di gust oddio ragazzi ma perché ma perché tutto questo da me perché tutto è a step era tipo c'era un burrone mi ricordo c'era il burrone dov'è il burrone cazzo madonna ragazzi madonna eccolo eccolo ci siamo eccolo 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 qua eccolo qua ci siamo ragazzi ci siamo con calma con calma non era qui era più in qua no dove cazzo sono finito dove cazzo era il mio cadavere porca miseria ragazzi fatemi tornare su non era da questo lato forse si beh non mi ricordo non mi ricordo dove mi son buttato porca miseria porca troia no lì muoio lì muoio sento anche un gust vicino porca puttana porca puttana puttana porca ok adesso posso buttare bene allora oh i blades ci sono i blades ragazzi però però io non ero qui dov'è il mio cadavere dove diavolo è il mio cadavere con tutta la mia roba puttana merda schifosa dobbiamo ricollegarci in qualche modo non mi interessa ragazzi ne abbiamo bisogno cioè io non posso lasciare tutti i miei materiali qua cioè qua dove non lo so là là ecco là la mia esperienza è là come cavolo fa come diavolo faccio ragazzi ma porca due porca ma dove cazzo ci siamo cacciati cioè ci siamo rovinati eravamo tranquilli no andiamo nel nether andiamo a perdere tutta no pezzo di merda pezzo di merda sei un infame gas gas sei un infame no fai veramente no non ci voglio credere accidenta la puttanaccia di tua madre quella puttanaccia schifosa maledetta infame gas basta il cazzo ti esplodesse tutto quello che hai pezzo di merda pezzo di merda vi rendete conto no comunque la strada adesso dovrei ricordarmela super giù ragazzi io non so dove cazzo sono finito però siamo di nuovo vicini a questo cazzo di fortezza del porco 2 del demonio della merda ci siamo vicini per forza perché cioè siamo ricollegati però però non so più da dove parte arrivo cioè ogni volta arrivo da una parte diversa come cavolo faccio io cioè mi sono dimenticato anche di portare da mangiare vi rendete conto quanto cazzo siamo fottuti adesso io spero di rivedere quello scheletro con quella spada perché è lui che ci ha ucciso e di conseguenza è lì che siamo morti ma dove diavolo è qui c'è lo spawn di blades siamo siamo fregati ragazzi oh 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 porca miseria oh porca miseria via 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 fuga 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 non ci voglio morire scordatelo cioè ora mi uccidono loro io non ho l'armatura non ho un cazzo ma dove diavolo sono eppure non deve essere lontano cioè era qui ma porco demonio ladro oddio il rischio sì vabbè io non ho neanche i cuori sono un coglione cazzo siamo fregati non c'è modo di salvarsi cioè devo trovare il mio cadavere per trovare da mangiare se no sono morto di nuovo ma lo fa non lo trovo scommettetene non lo trovo qui c'è un collegamento per forza dai non mi prendete in giro infatti non c'è niente c'è il gas guarda il gas di merda stronzo quindi ragazzi non so più raccapezzarmi da dove io sia arrivato non so più niente we are fuck we are fucked up ragazzi abbiamo perso un'armatura intera di diamante che tristezza che tristezza più totale eppure ero arrivato dalla sopra cioè secondo me sono morto quindi non c'è più niente no io avevo fatto un percorso tipo di di nether track ma dove dove è finito bella domanda sempre meno cuori sempre meno cosciotti il miracolo ragazzi si allontana sempre di più ve lo dico non ce la facciamo non c'è modo ormai voi non credete neanche più nella riuscita me lo sento non ci crederei neanche io in questa situazione puttana merda ladra schifosa bastarda infame dai cioè eravamo avevamo trovato la fortezza è amareggiante sta cosa è molto amareggiante cagare va eh il mio cadavere non c'è più ragazzi ci possiamo anche suicidare perché tanto cioè è tempo perso stare qui è tempo perso vaffanculo vai a fare in culo vai a fare in culo sono sono triste ve lo giuro sono triste quindi adesso dobbiamo rimettere dimettere da parte i diamanti e anche continuare a ricercarli perché che palle cioè è veramente un giramento di cazzo inesiste cioè inumano vaffanculo vai a fa che cazzo è successo vaffanculo che fine ha fatto la mia pecora rosa ragazzi dov'è la pecora rosa che c'era qua un tempo non è che ti sei trasformata in un maiale prendiamo le cesoie oh ma che cazzo ma porca miseria oggi proprio non è oggi non è giornata ragazzi episodio negativissimo per noi vieni va stronzo vieni venimo addosso stronzo no e vabbè e vabbè io sono ritardato cioè non pensavo mi attaccasse subito volevo infilarmi sotto l'albero male 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 a tratti malissimo episodio di oggi molto diludente dilusione matrioska di dilusione per step grano saraceno per noi boh sono rimasto male sinceramente cioè ucciso da quello scheletro in un colpo un colpo cioè mi ha avvizzito ora mi spiegate nei commenti che cazzo vuol dire avvizzito comunque mi è arrivata la gopro ragazzi domani io la faccio vedere me lo dici te quando ti ha bisogno che ti devo fare qualcosa sto registrando un video come ti ha detto allora mi chiami te quando ti ha bisogno ma sì sono amareggiatissimo amareggiatissimo a cagare vabbè ragazzi nel prossimo episodio comunque ci rifaremo ve lo prometto sicuramente dobbiamo tornare in miniera a ricercare un po' di materiali perché cioè così non ci si può fare io non posso cioè abituato a utilizzare gli oggetti in diamante come la spada e il piccone e poi più che altro abituato ad avere l'armatura che ti protegge un monte di danni dopo non ce la fai a giocare di nuovo con il coso con la roba di ferro cioè che cagata che cagata bom allora mettiamo finire di cucinare questa roba andiamo un secondino giù si dà da mangiare a queste bestie oh fermi allora voglio provare una cosa se io faccio accoppiare la pecora dov'è rosa con un'altra cosa succede non mi dite esce un pecorino rosa perché se esce un pecorino rosa ragazzi voglio che questo episodio raggiungo ecco il pecorino rosa incredibile ragazzi ebbene quindi grazie mille a chi mi ha consigliato di farla a pecorare con un'altra una rosa con una bianca è iniziata la serie sul canale di anima mi raccomando andate a vederla sarà uno skyblock io insieme a lui dove lui è il nabo più totale oh perché non mangiano oh ma voi si è usciti un po' in troppi qui eh vabbè mi ammazzo tutti voi si è usciti ecco no no aspetta aspetta prima le vai le scesoie ho perso anche le scesoie va a cagare no cioè mi sono reso anche solo adesso conto che siamo a livello 3 cioè ho perso anche tutti i livelli non fa riprodurre i maiali ma come mai non mi fa picchiare ragazzi si è buccato tutto qui che cazzo sta succedendo guarda non mi fa picchiare lo zombie è il colmo ah lo zombie si eh boh vabbè ragazzi alla fine questo episodio sta avvenendo cioè sto vedendo la registrazione è di 40 minuti circa però devo considerare che vi devo tagliare la parte in cui mi sono mosso nel nether quindi non vorrei che venisse più corto di 35 di 25 minuti in ogni caso spero che questo video vi sia piaciuto che sia stato un episodio negativo perché siamo morti abbiamo perso quella puttanata di armatura del cavolo dove dobbiamo rifare però da una parte abbiamo trovato la fortezza cioè quindi adesso sappiamo dove è la fortezza la prossima volta ci andiamo molto più attrezzati anche se non mi sembrava ad essere messo male cioè avevamo la spada di diamante i piccoli di diamante tutta l'armatura di diamante quello scherzo ci ha dato un colpo mi è venuto un cuore nero e poi sono morto vabbè non lo so sinceramente non so come mai ha fatto così ora se volete scrivermi un commento tanto io li leggo sempre tutti quindi io darò un'occhiata sicuramente a questo punto potrei anche sperare che tipo uno di quegli scaletti mi scende giù con l'armatura di diamante lo uccido e me la da lui ma non credo proprio e nulla ragazzi nel prossimo episodio vediamo un po' cosa fare sconsigliatemelo voi qua sotto nei commenti io vi saluto ci vediamo domani nel prossimo episodio è sempre tutto buone